ciao a tutti amici rossoneri e non bentornati sul canale di briga il milanista allora ragazzi mi raccomando lasciate subito un like non ci vuole niente omaggio se mi seguite iscrivetevi al canale fate un piacere al sottoscritto se ne avete voglia condividete 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 fatemi conoscere non bisogna stare con tutti forza allora ragazzi allora volevo parlarvi di una cosa pensavi credevi che mi fossi dimenticato di te montolivo carissimo no non ne so scordi ti sei tolto i sassolini dalle scarpe sei uscito a testa alta dopo hai cercato di uscirtene bello pulito da tutta questa situazione a dove bello bello strazzi bellito adotta presi in mondo lì diciamo bene tutti i fatti montolivo non si facciamo un anzi un bello sgargiando da dove dove ti presenti adotta presi dai calmo ma che ma che ha postata di danza se non volasse come un signore c'è signore e signore ti piace molto perché 3 milioni e mezzo per 3 anni di contratto è stato assesso ad accesso 9 anni 2 anni 3 anni ma vabbè quando è stato il fenomeno del condor il grande condor che ti ha fatto un triennale quando già stavi morto che la gente si riempiva la bocca dormo olivo morto olivo tutto sta caricato e quando ti faccio un triennale tanto il condor non ha fatto da causa la grande problema bravissimo grandissimo il condor grandissimo il cristiano quando c'era lui quando c'era quando c'era l'ultimo capitano fuori del coglione quindi dicevo hai avuto la possibilità quando hai visto che eri ai margini del progetto di andare via c'erano un paio di squadre tutte le squadre ovviamente di medio basso livello perché dopo lo schifo che stavi facendo cosa ti ha aspettato cittadino boghiera ma è don quindi dicevo ti volevano due tre squadre si parlava del genoa si parlava del bologna e c'era stato qualcosa e tu invece hai rifiutato la destinazione perché quelle squadre lì non ti davano i 3 milioni e mezzo che ti dava il milan 3 milioni e mezzo e sei rimasto a san siro sei rimasto al milan a milanello fuori dal progetto seconda terza quarta scelta quinta scelta come ieri a prendere quei soldi perché nessuno è come gennaro gattuso che ha lasciato i suoi soldi lì e ha dato le dimissioni quindi tu tu non sei non ti puoi paragonare a quell'uomo lì perché noi conosciamo gennaro gattuso e io mi fido di gennaro gattuso e non di te e se gattuso si è comportato in quella maniera con te è perché tu qualcosa l'avrai fatta la non sappiamo tutto ciò che è successo ma c'è qualcosa sicuro e certo che se gattuso si è mosso agito in quella maniera lasciandoti fuori completamente dal progetto vuol dire che lo merita perché ricordiamo a tutti che gennaro gattuso è stato l'unico a lasciare quella cifra lì a dire al milan io mi dimetto non mi pagate lo stipendio l'importante che gli date quello che aspetta al mio staff a mano mesita danno questo è gennaro gattuso quindi questo è quello che è successo per non parlare di quello che avevi fatto invece per mandare via claren sedorf quando faceva l'allenatore che non ti vedeva proprio non ti metteva proprio e tu insieme a galliani e a qualche altra combricola di giocatori che non vedeva il colore del campo si riuscita ad arcore a convincere berlusconi che l'aveva voluto sulla panchina di mandarlo via questo sei tu non si faccia il prezioso bacchetta tanto c'è ti metti a me donna si state tre anni tre anni a dormire senza fennù a prendere tre milioni e mezzo e fai pure la faccia il pacchetto non mi mette pure a chiangere non mi metti a me e non voglio più una parola su questo uffa tacchetti siamo nas ogni anno e c'è fuori a ogni sessione di mercato la storia di donna roma la ju donna roma la ju e con me capo mia sendero juventino ma donna roma non vale niente non sarà mai come buffon da godate è un volete a chi hanno negli anni con lo volete da anni tutti e no no corte non vince orano ha fatti giù c'è lui di partito quindi non hai faccio� du becce datv dawn non vi faccio allora a proposito della juve una cosa volevo capire ma do che c'era il set non stava bene, un ginocchio in disordine da due da due l'ha tolto perché non stava bene qui è asciuto in portogallo fa tre gol cosa vuoi dire da mare? c'è qualcosa che non va lì ho visto che ieri è uscito il franzetto allenatore del portogallo qui è l'ultima volta di un gasto mese guarda c'è qualcosa che non quadra andiamo avanti di cosa vogliamo parlare? continuiamo a sognare Zlatan continuiamo a sognare Zlatan poi qualcosa diciamo di strano stava succedendo anche per quanto riguarda il discorso che Mino Raio, la procuratore di Brahimovic non so per quale motivo ma ha preso prima la procura di Bonaventura poi ha preso quella di Romagnoli ora a quanto pare sta prendendo quella di Suso ma non è che stiamo facendo in modo teo purt'na Zlatan e noi vediamo di darti una mano con questi procuratori qua e là non lo so forse stiamo viaggiando troppo con la fantasia questo è un indietro che mi ha dato un mio amico carissimo però sai com'è? a pensarci bene non è sbagliata questa cosa qua e niente più o meno erano questi i discorsi che vi volevo fare ragazzi non mi voglio dilungare troppo perché poi sono troppo lunghi fatto apposto quello che mi premeva a dire ragazzi era questo fatto qua di Montolivo che sinceramente mi ha detto non è più fastidio e niente ragazzi io vi saluto continuiamo a vederci su questo canale qua un abbraccio da Briga il Milanista mi raccomando condividete fatemi conoscere lasciate un like mi raccomando dai ragazzi forza lotte vincerai non ti lasceremo mai ciao ciao